C'è un grande amico, grande amico dell'Ora Solare che quelle tavole le ha viste da vicino, continua a vederle, lui del Quirinale è stato, è e resta di casa. È il luogotenente del reggimento dei corazzieri, Francesco Madotto. Grazie. Grazie di essere con noi, bentornato. Grazie, grazie. Bentornato, bentornato. Grazie dell'accoglienza, del saluto e della presentazione. Eh ma noi le vogliamo bene. Gentile, gentile, dagli occhi si vede da subito. Ma lei si fa voler bene anche dai sassi. Grazie. Comandante Madotto. Allora, perché abbiamo reinvitato questo corazziere che rappresenta per noi e con noi proprio questo nobilissimo corpo, quello dei corazzieri della Repubblica? Perché, luogotenente, lei è incredibilmente in pensione, non si sa come, se è un ragazzo, ma è in pensione e non smette di essere corazziere. Lei insegna ai giovani, si possono chiamare allievi corazzieri? Direi aspiranti, perché il giovane, insomma, si deve formare e io questo mi posso permettere, quando sono in fase di formazione, perché dopo, una volta, diciamo, effettivo corazziere, comunque io non faccio a meno di suggerire, raccontare, dire, perché sono interessati. Come prendo la parola di dire qualcosa? Mi guardano a bocca aperta, interessantissimi, cosa facevamo, cosa si faceva e così via. E praticamente, però, io direi questo, mi permette una cosa personale, ma non credo di sbagliarmi, perché glielo dico a loro e ai genitori dei corazzieri, che il corazziere incomincia a nascere in famiglia, con i genitori, perché sono loro che danno l'impronta delle radici, del buon comportamento, del rispetto, di tutto quello che il corazziere, sommariamente, deve avere. Quando lui sa tutte queste cose qua, che i genitori gliel'hanno inculcato, ma si è abituato a fare, perché bisogna fare, i genitori li fanno, trasmettono facendo, perché non è solo dire, bisogna trasmettere, fare e pretendere che facciano. E allora, quando arrivano i corazzieri, sono già quasi formati. E questo, io lo dico chiaramente, poi si affinano per quanto riguarda la professione, quello che devono fare, insomma, il servizio. Però, insomma, un corazziere lo riconosci da lontano, non solo per l'altezza, anche quando non è nella divisa, che non sia la divisa ufficiale, quella con la corazza e l'elmo, chiaramente, ma la divisa, come quella che sta portando lei, in questo momento c'è un comportamento. Ecco, perché noi oggi abbiamo parlato, abbiamo aperto parlando di Galateo, c'è un naturale innato istinto al Galateo, che viene poi affinato nel tempo. Certo, perché questo, trasmettendo, in sostanza l'aspirante deve vedere cosa fa. Oltretutto, poi gli viene detto, se fa non fa bene, gli viene detto il comportamento fatto, perché poi in questi sei mesi, alla fine, addirittura fanno una tesina scritta. Ah, però. Certo, certo, una tesina su quello che hanno imparato e quello che il corazziere deve, dovere, dovere, fare, perché è questa la nostra identità. E non sono in abiti, come ha detto lei, in gran gala, quando sono sull'altar della patria, o in via fuori imperiale e fa la sfilata del 2 giugno, rispetto. Ecco, ma anche in abiti borghesi, il corazziere deve, anche se adesso gli abbigliamenti sono un po' cambiati, così dal punto di vista formale, giacca, non giacca, però io gli raccomando. Si può avere anche una bella maglietta, ma senza quelle scritte un po' strane, che non sono da condannare, ci mancherebbe altro. Però il portamento, quando uno esce dalla caserma, pensi, dottoressa, io andavo lì a vedere i corazzieri, quando uscivano, le parlo nel 1958. Nel 1958, andavo a vedere i corazzieri, non solo quando uscivano in divisa per andare al Quirinale e rientravano, ma quando andavano in borghese, in borghese, vestiti, giacca e cravatta. Dottoressa, io ero un aspirante ai corazzieri, avevo un sogno, ma non avevo il vestito. Pensi, dottoressa, non avevo il vestito, ma io pretendo di fare... Ecco, questa è la libera uscita, la libera uscita, con un amico, amico, anche canottiere, livornese, ecco, questo avevo vent'anni, vent'anni, vent'anni. Si doveva uscire in libera uscita così, non c'era... Oh, guardate, giacca e cravatta. Non è che era un servizio, e questo era pure d'estate. E meno male che era libera l'uscita. Libera uscita, no, 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 doveva essere così. L'allievo deve sapere, l'allievo, l'aspirante, deve sapere. L'aspirante, l'aspirante. Il comportamento del corazzieri è sempre, sempre, 24 su 24, dove si trova, si trova, è corazzieri. È corazzieri. Deve far capire che è un corazziero. Beh, con lei si capisce perfettamente. Non so, ma... Perfettamente, guardi, si capisce perfettamente. Però, guardate, è una... Proprio perché oggi siamo nel 2022, questa foto è del 1958, c'è questo... Lo posso chiamare passaggio di testimone della buona educazione che un corazziere continuerà a mantenere sempre per sempre nel tempo? Perché c'è anche questo nel vostro ruolo. Sicuramente, dottore, siccome ho detto prima, quando l'aspirante corazziere, il sogno suo di diventare corazziere, è nato dalle radici familiari, ritorno a dire sempre questo, sempre questo. Poi cresce nel tempo e si deve formare che poi, stando in quel posto, si deve abituare. Io posso stare qua se seguo delle regole comportamentali e fuori discussione. Allora... Non si può levare questi... Non si può cancellare. Queste basi fondamentalissime. Allora, la Virgo Fidelis viene proclamata patrona... Sì. ...dell'arma dei carabinieri l'11 novembre 1949. Qual è stato il primo servizio che le è stato assegnato, luogotenente Madotto? Vede, dottoressa, lei mi fa una domanda che mi vengono i brividi. Perché? Io mi sono arruolato a Torino e a Torino non potevo rimanere perché avevo l'aspirazione dei corazzieri e dovevo andare a cavallo. Mi hanno trasferito a Roma. Mi sono arruolato a agosto e questo è successo a novembre, Virgo Fidelis, e c'era la Santa Messa, una bella cappella alla scuola allievi che c'è ancora e in questo lei capisce che all'altare ci devono essere due carabinieri allievi in grande uniforme, no, grande uniforme ridotta perché da allievo non può avere la grande uniforme. Ovviamente, però in un uniforme... No, in servizio d'onore a questo. In sostanza, davanti a tutti, insomma, questa messa durata in interminabile, tremava. Ma che come? Io tre mesi che ho mi mettete a questo servizio? Insomma, l'ho fatto benissimo. Terminato il servizio, viene un superiore a chiamarci a me, l'altro collega, dice venite che il capitano, sarebbe il comandante della compagnia, vi vuole un rapporto. Dottoressa. Rapporto vuol dire parente di una punizione. Rapporto fa paura. Non si scappa. Ci porta lì e per strada facendo io chiedevo al collega ma cosa hai fatto? E l'altro a me... Vicendevolmente. E lo stesso il tenente che ci accompagnava. Ma cosa avete fatto? Perché era stabilito che c'era la punizione. Andate lì, si sono presentati naturalmente, le dico, eh, tutto quello che era. Voi, quando andate in licenza per le feste natalizie, a Natale, lui ha detto, la vostra licenza sarà integrata da altri tre giorni per il servizio che avete fatto. Dottoressa, dalla punizione è venuto il premio. Ma lei non ha idea che cosa... Oh... Però perché noi... E perché io pensavo a mia mamma che si mi cacciano via. E di chissà cosa avrò pensato. Lo stavo per arrivare a sua mamma e a suo papà. Vede, in quell'istante, il ragazzo cresciuto corazziere è saltato fuori. E lei era soltanto un allievo. però in quel momento il ragazzo cresciuto corazziere della sua famiglia è saltato fuori. Questa è la cosa importante. Sì, però non c'era all'orizzonte, assolutamente. C'era solo in me, dottoressa, mi perdoni? Sì. Una piccola lucina che io avevo sempre speranza. Allora, accompagnata dalla fede e dalla divina providenza. Io me la sento ancora oggi, dottoressa, abbraccetto con me la divina providenza. Ma lei è una meraviglia, luogotenente Madotto. Lei è una meraviglia. Poi dice, perché le vogliamo bene qua? Le vogliamo bene perché lei si fa voler bene e glielo ripeto anche dai sassi. In un minuto adesso il luogotenente Madotto vi racconta come in tutta la sua robusta altezza portato a Piazza di Siena a sistemare gli ostacoli. Perché? Perché erano ostacoli alti. Lei quanto è alto? Come un corazziere, un metro e 95 che poi adesso rientra in questa nuova perché hanno aumentato la richiesta. Ma stiamo buono, si fermi a suo metro e 95 di allora. Un metro e 95. Francesco Madotto sostegna gli ostacoli e prende coraggio e che cosa fa? Va in tribuna dal comandante generale a dire io voglio sperare di diventare corazziere. Lo posso dire? In sostanza, io vedo, lei ha detto coraggio. Ha usato una parola che interpreta, sintetizza il nostro motto Virtus in pericolis firmior. Che cosa vuol dire? Il coraggio si rafforza nelle difficoltà. Bene. E quindi? E quindi ho deciso, ho visto il comandante così, senza pensare che se avessi pensato non sarei andato. Sono andato là tra una gara e l'altra, l'intravisto, sono andato lì, presentato davanti allievo, carabiniere, madotto, Francesco, aspirante corazzieri, comandante, il mio sogno è diventare corazziere. E' rimasto scioccato, sicuro che me l'ha detto dopo. Quanti mesi sono passati tra questo incontro? Dunque, da quando mi sono arrivato, questo era a maggio. A maggio. I concorsi epici si fanno a maggio a Roma. E questo era a maggio. E io non ero ancora, neanche carabiniere, ancora non. Ma quando è diventato corazziere? Agosto. Signore. Davanti a una lista di persone. Posso alzarmi per lanciare la pubblicità? Posso alzarmi, vero? Posso alzarmi. Venga comandante, scusi. A debita a distanza. E' lui, il comandante Francesco Mandato. Ho tanti tacchi così e non ci arrivo, il comandante Francesco Mandato. Grazie, 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 grazie.